Ars Manualis è un progetto di artigianato artistico toscano nato nel 2020 dalla volontà di alcuni artigiani determinati a riportare nelle piazze l'eccellenza del saper fare. Ars Manualis è per sua vocazione un progetto aperto, erede di una tradizione artigianale antica e contemporanea al tempo stesso. Maestri orafi, ceramisti, pellettieri, cappellai, sarti, intagliatori del legno, mosaicisti, pittori, decoratori, piccole aziende alimentari animano a ogni evento le piazze, portando all'attenzione del pubblico la tradizione artigianale toscana. Ars Manualis è uno showroom a cielo aperto, è passione per il proprio mestiere, è incontro, arricchimento personale, scambio emotivo. E' un viaggio a occhi aperti, che stupisce e incanta, che racconta una storia fatta di artigianalità, dedizione e amore. Grazie. 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 Grazie.